Buonasera e ben ritrovati con l'appuntamento del sabato di Tg Economia. Sommario in questa edizione del 27 gennaio la cronaca sindacale con le tante vertenze aperte nella nostra regione per le quali la prossima settimana sarà decisamente importante. L'ambiente e i rifiuti con un focus in particolare su una delle discariche della nostra regione ma anche reti e tecnologie perché se ne è parlato molto in settimana sia a Perugia che ad Umberti. Le mandiamo per ordine, iniziamo dalle vertenze sindacali che tengono in ansia l'Umbria in apertura del nostro Tg Economia con i casi Perugina, Nardi e Tagina. Fumata bianca intanto a Perugia per la bozza di accordo sindacale in casa Nestlé che ha colto di sorpresa anche gli stessi ambienti sindacali. La firma dovrebbe avvenire il 15 febbraio a Roma al Ministero dopo il vertice dei giorni scorsi in Confindustria. Proroga della Cassa Integrazione e pacchetti part-time, il nocciolo dell'intesa. Più in alto mare la situazione a Città di Castello per la nuova proprietà della Nardi che fa muro e non si presenta giovedì scorso a Perugia all'atteso vertice in Regione. Tutto rimandato a martedì prossimo ma l'aria che si respira per i 103 dipendenti della storica azienda di Selci, Lama, non è dei più promettenti. Qualcosa si muove invece a Gualdeo Tadino in casa Tagina la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per il passaggio di proprietà visto come unica chance di futuro. Ne sono convinti anche i lavoratori che da ieri sono tornati a produrre. Vediamo su questo proprio il servizio. Il fattore tempo si restringe ma la convinzione comune è che l'unica possibilità di rilancio per la Tagina è una sua cessione. Il giorno dopo il vertice in Regione da parte di proprietà, sindacati e istituzioni si respira un clima di moderata fiducia mista a sano realismo. Dopo il vertice perugino i lavoratori del gruppo ceramico Gualdese si sono riuniti per circa tre ore in un'assemblea serale insieme ai loro rappresentanti sindacali. A larga maggioranza hanno deciso di mantenere viva l'azienda consentendo fin dalla giornata odierna le spedizioni di alcune importanti commesse. Resta in piedi però lo stato di agitazione in attesa di atti concreti e soprattutto in attesa che la nuova settimana fin dai primi giorni porti delle novità, in particolare dal possibile acquirente Emiliano, il gruppo industriale Gambini, che a più riprese anche nelle ultime ore ha confermato interesse a rilevare l'azienda. Ma poi, si sa, quando si passa alla trattativa, come insegna il caso di Cerit, può tutto succedere. E anche la fumata apparentemente bianca può diventare scura all'improvviso. L'incontro a Palazzo Donini ha anche dato spazio alla Regione alla possibilità di mettere in campo, ovviamente con determinate condizioni, tutti gli strumenti a favore della ripresa produttiva e quindi dei lavoratori, come riporta una nota CGL-CISL. Con l'ultima legge di bilancio, infatti, ci dovrebbe essere la possibilità di accedere per un buon periodo ad ulteriori ammortizzatori sociali utili per la ripresa dell'attività ed il mantenimento dei posti di lavoro. E non secondari anche per un eventuale nuovo proprietario. L'azienda ancora oggi ha tutte le caratteristiche per essere rilanciata sul mercato, nonostante problemi di carattere finanziario che gli istituti di credito non hanno ritenuto tamponare, proseguono i sindacati. Il nuovo impianto di produzione, la professionalità dei dipendenti e un buon portafoglio clienti sono un grande biglietto da visita di Tagina, che è appetibile a tanti soggetti del settore ceramico italiano e mondiale. Il suo marchio è noto come marchio di qualità. Lo ribadiamo ancora una volta, concludono CGL-CISL, tutti i tentativi di salvare l'azienda devono essere fatti a maggior ragione in presenza di un mercato, quale quello ceramico, in forte ripresa, a differenza di quello umbro che sconta ancora le note difficoltà. Moderatamente fiducioso, ieri, si è detto anche il sindaco Presciutti, pur sapendo che solo la prossima settimana potrà essere fuoriera delle novità auspicate. Ed ora la viabilità, parliamo di aeroporto in vista dell'imminente attivazione del collegamento fra all'aeroporto regionale dell'Umbria e Francoforte, l'agenzia regionale sviluppo Umbria, insieme alla SASE, la società di gestione dello scalo San Francesco d'Assisi, hanno promosso un incontro a cui saranno presenti anche rappresentanti della compagnia aera Ryanair per illustrare le iniziative e l'opportunità di sviluppo turistico ed economico per gli operatori Umbria. All'incontro, in programma martedì prossimo, 30 gennaio alle 11, alla sede di Perugia, di sviluppo Umbria, sono stati invitati a partecipare i principali rappresentanti dell'offerta turistica e dell'incoming della nostra regione. Ma ora il nostro focus economico si sposta sui rifiuti perché la settimana che è stata caratterizzata da novità e polemiche, le novità sono arrivate da Città di Castello dove è stato presentato l'investimento di 12 milioni di euro in impianti, sostenuto da Sogepo in attuazione al piano d'ambito dell'ex AT1, negli ultimi due anni ha trasformato Bella Danza da semplice discarica in un polo integrato di trattamento, recupero e valorizzazione e smaltimento del rifiuto che oggi è in grado di garantire l'autonomia gestionale del territorio dell'Alta Valle del Tevere e dell'Alto Chiascio e essere un punto di riferimento strategico per il nuovo piano Umbro di settore affidato sia alla regione ma anche alla nuova agenzia unica regionale Auri. Con il seminario sul tema il nuovo piano d'ambito di rifiuti promosso all'auditorium Sant'Antonio di Città di Castello in collaborazione con l'Auri e l'Ordine degli Ingegneri è emerso che Bella Danza è destinata a breve termine a diventare il punto di riferimento per il trattamento RSU di tutta l'Alta Umbria. Alta Umbria che peraltro ha bisogno di nuovi punti di riferimento perché è venuta a galla maggior ragione in questa settimana la bomba ecologica ma anche finanziaria di una discarica quella di Gubbio e di Colognola che fa protestare i residenti della zona ma preoccupare anche Palazzo Pretorio. Vediamo su questo proprio in servizio della conferenza stampa tenuta in settimana da sindaco e assessore competente del Comune di Gubbio. Difendere gli interessi dei cittadini da un lato con ascolto e dialogo ma lavorare per garantire le risorse necessarie alla chiusura della discarica e al riambientamento dell'area dall'altro. È stretto tra due fronti il lavoro del Comune di Gubbio per la discarica di Colognola una delle tre emergenze che pesano sul bilancio e sulla stessa quotidianità del lavoro della giunta a stirati insieme alla Gubbio Cultura e Multiservizi al parcheggio di San Pietro. Una bomba ecologica ma anche finanziaria quella di Colognola una vicenda che è malodorante per chi vive nei dintorni del sito come testimoniato anche ai microfoni di TRG quanto almeno per chi è chiamato a gestire la discarica sul piano amministrativo come hanno spiegato in conferenza stampa Palazzo Pretorio il sindaco Stirati e l'assessore all'ambiente Alessia Tasso. Fino a qualche anno fa la discarica per un Comune oltre a essere presenza ingombrante sul piano ambientale rappresentava comunque una voce di introito notevole e così è stato anche a Gubbio fino a poco tempo fa. Oggi costituisce soprattutto un problema, ha spiegato Stirati, ereditato dal passato con alcune scelte nel decennio precedente non idonee soprattutto con il mancato accantonamento dei fondi destinati alla bonifica da parte delle amministrazioni e Gubbine passate. Oggi la Giunta si trova a dover reperire circa 2 milioni e 400 mila euro subito e ulteriori 2 milioni circa negli anni successivi per gestire la cosiddetta post-mortem la fase di bonifica successiva alla chiusura che formalmente avverrà il prossimo giugno. Il primo accantonamento finanziario per Colognola è avvenuto solo nel 2017 con 250 mila euro, ha precisato il sindaco. L'errore principale è stato ribadito in conferenza anche alla presenza di alcuni residenti della zona di Ghigiano è stato quello di non aver tenuto da parte negli anni precedenti alla Giunta a Stirati le somme previste per la bonifica soprattutto quando la discarica era molto redditizia per le casse del Comune che ha messo in cassa 13 milioni circa dal 2001 ad oggi grazie al sito con annate come il 2008 in cui gli introiti furono di 1 milione 800 mila euro o il 2011 con 1 milione 700 mila di entrate dovute anche all'arrivo da queste parti dei cosiddetti rifiuti speciali rifiuti che richiedono particolari cautele ma che hanno anche rimpinguato le casse comunali finendo poi però per altre destinazioni di bilancio attualmente la discarica non produce più introiti così significativi dal 1 milione 100 del 2017 già quest'anno si scenderà a 600 mila euro per reperire risorse dunque da un lato la Giunta punta a ottimizzare gli spazi residui della ormai colma discarica con tipologie di rifiuti compatibili come il compost fuori specifica cioè il rifiuto scarto da lavorazione dell'organico proveniente dal Folignate che però sprigiona esalazioni molto più fastidiose che in questa fase hanno creato il malumore dei residenti per questo ha aggiunto l'assessore Tasso è stata chiesta la sospensione dei conferimenti di questi rifiuti provenienti da Foligno fino a che non saranno assunte misure cautelative tali da non generare i mali odori lo stesso percolato prodotto presentava un tensio attivo elevato cioè una presenza superiore al dovuto di deodorizzante tanto da dover essere trasferito in Toscana con costi di circa 80 mila euro al mese e mentre dalla regione nulla si muove per risistemare un piano dei rifiuti monco che manca cioè del tassello finale che non sia il conferimento in discarico o la spedizione a caro prezzo dell'RSU in altre regioni a Colognola c'è da risolvere il problema immediato della nauseante situazione per i residenti intanto ha detto Stirati è stato ottenuto il riconoscimento di disagio ambientale che comporterà misure e interventi sia per l'area che per la strada dissestata con un budget di circa 70 mila euro al quale si aggiunge il fatto che i residenti saranno esentati anche dal pagamento della Tari quanto alla richiesta avanzata dagli stessi di una maggiore partecipazione alle decisioni l'assessore Tasso ha ricordato come nel luglio scorso per la prima volta una loro delegazione sia stata fatta entrare nella discarica cosa mai avvenuta in passato altro fronte su cui lavorare con continuità resta la raccolta differenziata più se ne fa meno rifiuti finiranno in discarica ad oggi la differenziata di Gubbio si attesta al 57% con una riduzione di conferimenti da 8.600 a 7.000 tonnellate in ottica di aria vasta la vera novità infine è l'attivazione dell'impianto di trattamento RSU a Bella Danza nel Tifernate su cui andranno i rifiuti anche di questo comprensorio inviati finora a Perugia all'impianto Gesenu a costi che d'ora in poi saranno decisamente più ridotti e ora il mondo delle imprese sarà l'imprenditore Antonio Baldaccini Folignate amministratore delegato di Umbra Group il nuovo presidente di Umbria Aerospace Cluster l'associazione che è promossa da Confindustria Umbria da 9 anni coordina 28 imprese Umbria che operano nel settore dell'aerospazio e della difesa a eleggere il nuovo presidente è stata l'assemblea dei soci del cluster che oltre al presidente ha nominato il nuovo consiglio direttivo per il triennio 2018-2020 ma in tema di innovazione a Perugia la CNA ha promosso un interessante convegno sul tema delle reti e della connessione a favore delle imprese perché la formula 4.0 non sia solo uno slogan il servizio Cambiamento è questa la parola con cui ormai da anni abbiamo imparato a fare i conti prima con la crisi economica e ora con le sfide che l'innovazione tecnologica sta portando in ogni ambito della vita delle persone e proprio delle trasformazioni indotte dal digitale si è parlato al convegno dal titolo connessi uomini e tecnologie nell'impresa del futuro l'iniziativa che CNA Umbria ha organizzato a Perugia chiamando a discuterne esperti università e amministratori di fronte a una platea di diverse centinaia di artigiani e piccole imprese della regione l'innovazione digitale ha già cambiato radicalmente la vita delle persone e interi segmenti dell'economia ha esordito Roberto Giannangeli direttore di CNA Umbria basti pensare ad esempio a quello che è successo nel turismo nella musica nell'informazione nella logistica ma anche nel manifatturiero e nelle costruzioni la sharing economy e le tecnologie disponibili hanno modificato e modificheranno sempre di più prodotti e processi produttivi ma anche la fornitura di servizi sistemi di vendita il controllo e l'analisi dei dati e altro ancora dovremo imparare a convivere con i robot e le varie forme di intelligenza artificiale la vera sfida sarà quella di riuscire ad agganciare l'innovazione tecnologica in atto e il rischio maggiore è che interi pezzi di artigianato e piccole imprese vengano tagliati fuori dal sistema produttivo perciò aggiunto il presidente di CNA Umbria Renato Cesca ben vengano gli strumenti che sia il pacchetto impresa 4.0 e gli altri provvedimenti governativi o le misure messe in campo dalla regione e dalle camere di commercio mettono a disposizione delle imprese anche minori per colmare il gap competitivo in materia di tecnologie digitali quindi non solo incentivi e finanziamenti spesso a fondo perduto per l'acquisto di tali tecnologie ma risorse destinate espressamente alla formazione degli imprenditori e dei loro dipendenti perché non ci stancheremo mai di dire che per quanto la tecnologia sia importante la vera differenza continueranno a farla le competenze delle persone all'interno delle imprese Giuseppe Liotta ingegnere dell'Università di Perugia e delegato per l'ICT tra le altre cose ha messo in evidenza come le nuove tecnologie lungi dal penalizzarli permetteranno anche a territori piccoli come l'Umbria di essere messi in rete con il resto del mondo mandando in soffitta il principio per cui solo attorno ai grandi centri possano sorgere attività economiche fiorenti altamente suggestive le parole di Mario Gibertoni coordinatore scientifico dei master della Business School del Sole 24 Ore a Milano e consulente di grandi aziende italiane e internazionali che ha analizzato gli impatti profondi della digitalizzazione sulle strategie aziendali portando esperienze da tutto il mondo per Francesco Seghezzi direttore della fondazione ADAPT l'artigiano con la sua flessibilità alla forma mentis ideale per accogliere le trasformazioni in atto e rispondere in modo puntuale alle nuove esigenze dei consumatori che sempre più intervengono anche nella fase di progettazione dei prodotti che poi andranno ad acquistare ma occorre investire sulle competenze tecnologiche e digitali delle persone usando le risorse disponibili la presidente della giunta regionale Catiuscia Marini ha dato atto al CNA di essere riuscita a imporre al governo nazionale il cambio da industria 4.0 a impresa 4.0 perché la digitalizzazione coinvolge imprese di ogni tipo e dimensione l'appuntamento ora è con gli incontri territoriali che CNA Umbria organizzerà nelle prossime settimane anche per presentare il proprio Digital Innovation Hub nato in questi giorni proprio per sostenere la crescita digitale delle imprese anche in collaborazione con altri soggetti a cominciare dall'Università di Perugia crediamo ha concluso Cesca che questo sia il compito di un'associazione di rappresentanza di interessi come la nostra cercheremo di svolgerlo al meglio 13 comuni coinvolti con 16 borghi riqualificati quasi 28.000 residenti interessati 4.600.000 euro di investimenti attivati e 4.100.000 euro di contributi ancora da erogare sono questi i risultati del bando del GAL Media Valle del Tevere relativa alla riqualificazione e valorizzazione dei borghi del territorio a valere sulle risorse del PSR 2014-2020 a illustrarli nel corso di un incontro svoltosi a Palazzo Donini il presidente del GAL Media Valle del Tevere che è anche sindaco di Marsciano Alfio Todini con lui l'assessore regionale Cecchini i sindaci di Assisi e Monte Castello di Vibio Proietti e Brugnossi il vice sindaco di Deruta Marinacci i dirigenti del comune di Perugia e componenti della struttura del GAL è presente anche il presidente della Proloco di Armenzano nel comune di Assisi dove verrà riqualificata l'ex scuola elementare gli altri progetti riguardano Portaria nel comune di Acqua Sparta i borghi di Santa Restituita da Avigliano Umbro i centri storici di Bettona Collazione Massa Martana Monte Castello Vibio Fratta Todina la riqualificazione di Compignano nel Marscianese del Museo delle Acque di Fontignano a Perugia e delle frazioni di Cecanibbi Monte Molino e Ripaioli oltre al Parco delle Sculture a Brufa a Torgiano e al Tempio di Santa Maria della Consolazione a Todi e invece Umbertide entra nella lista delle città italiane scelte da TIM con un investimento di circa 600 mila euro per il lancio dei servizi a banda ultralarga sulla nuova rete di fibra ottica capace di una connessione super veloce fino a 200 megabit al secondo in download a beneficio ovviamente di imprese ma anche cittadini vediamo sulla presentazione di questa novità il servizio con le parole del commissario prefettizio che ora guida il comune di Umbertide sentiamo anche Umbertide entra nella lista delle città italiane scelte da TIM con un investimento di circa 600 mila euro per il lancio dei servizi a banda ultralarga sulla nuova rete in fibra ottica che permette di utilizzare la connessione super veloce fino a 200 megabyte al secondo in download a beneficio di cittadini e imprese il programma di cablaggio ha già consentito di collegare molte aree del territorio cittadino con la copertura della quasi totalità circa 4.500 delle locali unità immobiliari gli interventi infrastrutturali riguardanti la realizzazione della rete ultraveloce sono stati illustrati in una conferenza stampa del commissario prefettizio di Umbertide Castrese De Rosa e da Maurizio Pastori di Assas Operation Umbria di TIM d'oro in poi anche nello storico comune dell'Alto Tevere sono disponibili servizi in fibra ottica per cittadini e imprese la rete raggiunge la quasi totalità della popolazione comunale attraverso 14 chilometri di cavi in fibra realizzati anche utilizzando i cavidotti esistenti della pubblica illuminazione grazie al collegamento di 24 cabine stradali alla centrale con la copertura di pressoché tutte le unità immobiliari presenti il lancio ad Umbertide dei servizi in fibra ottica è il risultato degli importanti investimenti di TIM della collaborazione da parte del comune questo impegno ha consentito di realizzare infrastrutture sempre più moderne e in grado di offrire servizi tecnologicamente evoluti con l'obiettivo di sviluppare un modello di digital life ricco di prestazioni tecnologiche e applicazioni innovative basate sulle reti di nuova generazione con la fibra è possibile accedere a contenuti video di particolare pregio anche in HD la connessione ad alta velocità consente inoltre di praticare il gaming online multiplayer in alta qualità e di fruire di contenuti multimediali contemporaneamente su smartphone tablet e smart tv le imprese infine possono accedere al mondo delle soluzioni professionali sfruttandone al meglio le potenzialità grazie alla connessione in fibra ottica quest'ultima abilita anche applicazioni innovative come la telepresenza la videosorveglianza i servizi di cloud computing per le aziende e quelli per la realizzazione del modello di città intelligente per le amministrazioni locali tra cui la sicurezza e il monitoraggio del territorio l'infomobilità e le reti sensoriali per il tele rilevamento ambientale il commissario prefettizio Castrese De Rosa si è detto soddisfatto di questa collaborazione con Tim che porta la banda ultralarga in città l'azienda si è naturalmente impegnata a ripristinare a regola d'arte in tempi rapidi tutte le diverse tracce di scavo aperte in città oggi in Umbria ha giunto Maurizio Pastori di Tim la città di Perugia è connessa in fibra 200 mega con una copertura del territorio che supera il 90% mentre sul resto della regione oltre a Dumbertide sono 16 i comuni dove i servizi in fibra ottica a 200 mega di Tim sono da tempo distribuiti con un'ottima risposta da parte della clientela tra questi Terni Foligno Spoleto Città di Castello Bastia Gubbio Gualdo Tadino e Assisi quest'ultima per ora nella sola area di Santa Maria degli Angeli Benefici importanti perché non dimentichiamo che Tim ha fatto un investimento importante sulla città di Umberto oltre 600 mila euro di investimenti che consentiranno di poter raggiungere ben 4500 unità immobiliari della nostra cittadina oltre 14 chilometri di cavi sono stati posizionati quindi è stato fatto un cablaggio a regola d'arte e questo comporterà come si diceva una connessione rapida ultra veloce moderna che consentirà a cittadini e imprese del nostro territorio di poter con concretezza vedere i benefici per le loro attività Cosa comporta questo? Comporta che Umberto è tra le cittadine che Tim ha individuato per questo suo piano di investimenti importante Confidiamo che a breve Tim possa anche ultimare la messa in opera diciamo di tutta la sistemazione degli scavi che sono stati realizzati e ho preteso che Tim appena il tempo e il medio lo consentirà di poter ripristinare tutto il manto stradale interessato dai lavori e quindi ho ottenuto che in tempi rapidi questo sarà ultimato a beneficio appunto della collettività di Umbertide comunque un'opera importante che pone Umbertide all'avanguardia non solo in Umbria ma anche in tutto il territorio nazionale e chiudiamo questa nostra edizione del Tg Economia ricordandovi che ovviamente di Economia torneremo a parlare non solo nelle prossime edizioni del Tg il sabato alle 20 e 20 in replica la domenica mattina alle 10 e 40 ma anche nel nuovo talk show politico elettorale che parte venerdì prossimo 2 febbraio una novità editoriale per TRG e per Umbria TV perché andrà in onda per 5 venerdì alle ore 21 in contemporanea sui due canali canale 10 e canale 11 si intitola A Camere Unificate nuovo spazio di dibattito e approfondimento per raccontare la campagna elettorale e i progetti i programmi dei candidati in Umbria la trasmissione vedrà ospiti in studio anche esponenti del mondo produttivo opinionisti giornalisti ovviamente esponenti del mondo sindacale della società civile tra i temi appunto economia ma anche occupazione post sisma immigrazione ambiente rifiuti turismo per toccare i punti salienti delle proposte programmatiche in vista delle urne del 4 marzo appuntamento dunque anche per questi approfondimenti e dibattiti politici il venerdì alle ore 21 e in replica il sabato alle ore 14 per questa edizione del Tg Economia è tutto grazie e buonasera a tutti a tutti e